Respito di sollievo per via Gramsci dove questa mattina finalmente sono state rimosse le impalcature. Tutto è cominciato con i lavori di messa in sicurezza per il cornicione dell'ex caserma Pace. I ponteggi stavano creando non poche difficoltà ai residenti della zona per via della planimetria della strada. Dopo mesi di protesta si è ritrovata la quadra. Sono riuscito a portare a termine una delle prime richieste che nei momenti in cui mi sono insediato hanno presentato la mia attenzione ai residenti di una zona del centro storico. Nonostante si tratta di interventi semplici richiedono molto tempo per essere conclusi. Ringrazio i funzionali dell'agenzia del demanio che dopo una serie di riunioni hanno accolto la mia segnalazione provvedendo a mettere in sicurezza e cornicione dell'edificio della caserma Pace, afferma l'assessore alle politiche della ricostruzione Antonio Angelone. Sto lavorando con grande impegno a fine di soddisfare tutte le esigenze che hanno presentato gli abitanti del centro storico, tra cui la rimozione delle transenne, simbolo tra l'altro di quella burocrazia lenta che ostacola molte iniziative, anche le più semplici, consentendo a molti non esperti o disinformati sulle situazioni di difficoltà di lanciare facili accuse di immobilismo. In replica a chi con comunicato stampa parla di ricostruzione fatta solo di annunci o continua a far credere che l'ufficio Sisma sia bloccato, voglio precisare che gli uffici del settore ragioneria diretti dalla dottoressa Filomena Sorrentino hanno emesso in meno di 15 giorni i mandati per circa 800 mila euro, mentre sono pronti a lavorazione altri un milione e duecentomila euro, aggiunge Angelone, che sta lavorando anche per rimuovere la transenna che ha ormai trovato casa nel complesso monumentale dell'Annunziata. Quanto all'eliminazione della transenna davanti al palazzo dell'Annunziata sono stati effettuati diversi sopralluoghi dei quali è emersa la necessarietà di un progetto più ampio al fine di raggiungere più presto l'obiettivo. Voglio rassicurare che si continua a lavorare nell'interesse della cittadinanza.